Per parlare di agricoltura con gli altri, per parlare di sostenibilità, per parlare di vetiliero, per parlare di fame. E questi giorni sono gli uniti impegnati per parlare di loro, di cultura, di cultura, di famiglia, di massa, di pianeta che strugge la tua diversità, di farne le nostre acque, i nostri suoi, tra i tuoi spieghiamoci. Allora oggi andiamo a scelto di fermarvi qui davanti alla COP. Ma c'è il senso che ci vediamo che la COP come tutti i supermercati, da presenti, di crimini, di terrori, di accadere di strumento, di strumento, di strumento, di cui si vede cibo spazzatura, cibo che viene riprodotto dall'altra parte del mondo, con lo sfruttamento dei lacciardi e dei tappi, con lo sfruttamento della natura. E allora siamo qui a fare un'azione simbolica oggi, perché la COP, come i ministri dell'agricoltura, come tutti i supermercati, continuano a parlare di agricoltura biologica, di cibo bio, ma questi sono i muoci e noi questo lo vogliamo sottolineare.